Riprende anche quest'anno il mercoledì degli artisti per vivacizzare il centro storico di Fano, i vicoli e le piazzette che assumono una colorazione tutta particolare a son di musica. Assessore Lucarelli che cosa si presenta quest'anno? Innanzitutto voglio ringraziare l'Orchestra Sinfonica Rossini per questo progetto che sta portando avanti e la volontà che nasce quattro anni fa nel periodo Covid e che segue anche l'idea di dare questi spazi all'aperto ai locali per rendere la città più viva, più bella e ovviamente vogliamo anticipare la vivacità. Abbiamo una città molto ricca nel weekend ma ovviamente infrasettimanale eravamo un po' poveri e per questo che abbiamo deciso insieme all'Orchestra Sinfonica Rossini di vivacizzarla con una serie di appuntamenti che avverranno in piazza 20 Settembre nella zona di Via De Pili, al Lido di Fano, al Bastione San Gallo e ovviamente con altri locali che eventualmente potranno aderire e potranno arricchire ogni angolo della nostra città. Ecco l'idea, i turisti, i visitatori che arriveranno a Fano potranno trovare buona musica, qualità nello stare all'aperto nella nostra bella città già dal mercoledì perché questo progetto appunto tende a fare, a creare questi momenti il mercoledì per poi arrivare nel weekend ad avere tutti gli eventi e la ricchezza culturale che Fano ha sempre avuto. Saranno i locali della città di Fano i principali motori di questa iniziativa perché loro organizzeranno i concerti, noi come Orchestra Rossini assieme al Comune di Fano faremo coordinamento e daremo dei sostegni. Il sostegno saranno i contributi economici a chi organizzerà dei concerti e la promozione, quindi invitiamo anche altri locali ad aggiungersi a quelli già presenti. Partiamo subito il 14 giugno con degli appuntamenti al Bastione San Gallo, ci sarà Arca Ira che si regge su grandi personalità artistiche come Ilario Baggini, Elisa Ridolfi, conosciutissima, e Max Valentini. Avremo anche un concerto nella piazzetta dei Pili in cui ci sarà Mati Live, voce editata, che ci proporrà grandi successi dal blues al pop al soul e anche gli intrammontabili successi della musica italiana. Così come in piazza a 20 settembre presso Guendalina ci saranno il Bittersweet che ugualmente ci proporranno dei concerti di musica pop con particolare attenzione al repertorio italiano. Iniziamo tutti a partecipare numerosi per davvero sostenere i nostri artisti, artisti di grande valore del territorio e locali che così tanto fanno per il nostro benessere quotidiano.